Ciao, ciao a tutti, buonasera, stiamo girando un video in notturna, in notturna perché sono le sette e mezza di sera ma ho un attimo di tempo e volevo condividere con voi come promesso i miei calendari dell'avvento o meglio quello che ho trovato nei miei calendari dell'avvento nella prima settimana di dicembre. Ma prima di incominciare lo spacchettamento, oggi a è il 6 di dicembre, è San Nicolò ed è il patrono della città di Lecco, una volta tutti i negozi commerciali erano chiusi perché era festa patronale e quindi era tutto chiuso oltre alle scuole, adesso purtroppo i negozi, i centri commerciali, i alimentari e quant'altro comunque rimangono aperti ma per noi che abbiamo una certa, è una festa importante, è una festa della tradizione, è una festa dedicata a grandi e piccini che oggi ricevono la loro mela di San Nicolò. Questa è la nostra mela di San Nicolò, ne abbiamo tre, una per Mattia, una per Pietro e una per Lucia. Guai se il giorno di San Nicolò non ricevono la loro mela che è ricca di dolcetti, una mela succosa, una mela che i negozi di alimentari e i fruttivendoli lucidano perché deve essere bella, succosa e poi noi riempiamo i sacchetti con caramelle, cioccolatini e cose varie. Quando io ero piccola c'era soltanto, mi veniva regalata la mela con uno stuzzicadente, la testa fatta del mandarino e un pezzetto di cartone a modi tiara del santo patrono che faceva un po' l'omino di San Nicolò molto casereccio. Era comunque sempre bello riceverla e guai se non la si trovava sul letto alla mattina e qui da noi c'è ancora questa bella tradizione. C'è anche una filastrocca carina che comunque raggruppa non solo San Nicolò ma tutti i santi che si ricordano in questi giorni e che si susseguono, c'è l'Immacolata, Concezione e poi il Sant'Ambrogio che è il patrono di Milano. E la filastrocca dice così, San Nicolò è il porta i pom, Sant'Ambrogio gli ha faccius, la Madonna gli ha pelà e il bambino gli ha mangià. Allora San Nicolò porta le mele, Sant'Ambrogio le ha fatte cuocere, la Madonna le ha pelate e il bambino se le ha mangiate. E dopo questo scorcio sulla tradizione lecchese vi lascio magari nell'info box il link del video che ho registrato l'anno scorso proprio per ricordare questa nostra tradizione dove c'è anche la storia di San Nicola e di come è nata poi la tradizione delle mele. L'ho messo anche nei post se vi va così di ascoltare una piccola storia del periodo natalizio è molto carina e potete guardare il video. Ma iniziamo subito con i calendari dell'avvento. Primo calendario dell'avvento, non ve li faccio vedere perché sono sparpagliati ovunque in camera hobby ed è un disastro. Vi faccio vedere il contenuto e se vi piace ogni settimana faremo il contenuto della settimana appena trascorsa e di quello che abbiamo trovato. Nel calendario dell'avvento dell'angelica ho trovato queste tisane, alcune tra l'altro nuovissime, non le conoscevo e voglio farvele vedere che così poi le possiamo bere perché la Lucia ogni giorno vuole bere la tisana ma io l'ho bloccata. Allora, il primo giorno ho trovato emozioni al cacao, cacao, lampone e vaniglia antiossidante. Questa è nuova o almeno io non l'ho mai provata e sono curiosa di provarla. Secondo giorno ho trovato smoothie infusion con le dolci note del latte e kiwi e mela. Sono troppo carine. Terzo giorno moringa, zenzero e vaniglia, tisana sgonfiante. Ci serve per prepararci alle abbuffate natalizie e di fine anno. Quarto giorno, superfood, zenzero e limone, favorisce la digestione. Questa l'ho provata, è una delle mie preferite. Lo zenzero mi piace in ogni dove ed è veramente molto molto buona. Anche questo secondo me è nuovo. Allora smoothie cold infusion, si può fare anche come infusione a freddo. Con le dolci note del latte, mora e melograno. Bellissima. E oggi abbiamo una tisana drenante, anticellulite, ananas, mate e ciligio. Buonissima. E questi sono i primi sei giorni del calendario dell'avvento dell'Angelica. Oggi ragazzi sono andata allo spaccio della cereria Sgarbi. Ho comprato di quelle candele che sono meravigliose. Se poi vi fa piacere, se volete vi faccio un piccolo video sulle mie candele, altra mia passione. Veniamo ora al calendario di Balea che io ho comprato in lingua tedesca perché l'avevo ordinato ad una mia amica che era andata in Austria e mi aveva gentilmente avvisato che da DM erano usciti i calendari. Per paura di non riuscire a trovarlo qui in Italia, nel mio DM che non mi ricordo mai dove, non a Oreo ma lì vicino. L'ho fatto comprare da lei ma ovviamente non riuscivo a capire che cosa ci fosse dentro. Quindi con il mio Google Translate, che sapete siccome io non conosco l'inglese e nessun'altra lingua uso come se non ci fosse un domani, mi sono tradotta velocissimamente le descrizioni dei prodotti. Ecco, è proprio un passaggio veloce degli articoli per non tenervi qui delle ore e così per passare qualche minuto in compagnia. Allora, il primo dicembre ho trovato un gel detergente viso con glicelina delicato, a parte le confezioni che secondo me sono meravigliose, veramente stupende. non li apro per non far partire il pau, anche se vabbè questi poi li consuma, sì apriamoli dai. Allora, come diceva il mio amico Fabrizio di Profumizio, un canale davvero molto carino, se non lo conoscete andate a seguirlo. Dai bocgettini pucciosi non si capisce la profumazione, secondo me bisogna provare ad usarli e forse qualcosina di più si sente. Comunque anche solo a vederlo è carinissimo. Il giorno 2 ho trovato un doccia aromatico, formula leggermente idratante, mi sono incantata. Molto molto carina, anche questa, con il biscottino. Il giorno 3, giusto, sì. Una crema giorno con vitamina C e vitamina E. giusto. Il giorno 4, uno shampoo per capelli danneggiati. Ma guardate che belli che sono. Qui c'è il pettirosso con la pigna, gli aghi di pino, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il giorno 5 abbiamo un'acqua micellare Mignon. Questi sono anche molto carini perché a parte il provare i prodotti se non si conoscono, a parte che queste sono in edizione limitata quindi probabilmente poi non li troveremo neanche più. Però sono anche delle confezioni molto comode anche per quando si va in viaggio. Quindi magari poi li terremo e li useremo quando faremo i nostri viaggi, cioè mai. Perché io non viaggio praticamente mai, sono una settimana d'estate. E oggi, bellissimo, anche se non c'entra niente con la confezioni, ma io adoro, adoro, adoro queste cose. È un washi tape, è un nastro adesivo che conosco molto bene questi articoli perché li ho usati per tanti anni quando facevo scrapbooking. Non pensate di incollarci nulla perché sono scotch di carta, non attaccano praticamente nulla. Sono carini per attaccarci le fotografie, per attaccare magari un bigliettino a una superficie piatta, ma la loro forza adesiva è praticamente inesistente. Però è carino perché ha proprio tutti i disegnini di Natale e magari per attaccare su un pacchettino un piccolo bigliettino di auguri. Insomma, va bene. Non serve per fare i pacchetti. Non è questa la sua funzione. È una funzione puramente decorativa. Però sono molto carini. E anche con Balea abbiamo finito. Ora passiamo a Catrice che mi è piaciuta tantissimo. Sono stati dentro veramente dei regalini molto molto carini. Tra l'altro, quando ho aperto il calendario dell'avvento io, non avendolo aperto prima, pensavo fosse con delle caselline. Invece no. Era tutto sparpagliato in una scatola con tutti i sacchettini. Quindi Lucia, molto gentilmente, mi ha fatto uscire dalla camera hobby e mi ha preparato lei i pacchettini. Allora, il primo giorno troviamo un correttore camouflage. Tra l'altro la colorazione mi sembra anche perfetta per la mia pelle. Ragazzi, ho fatto danni. Per la prima volta sono approdata su Vinted. Era meglio che non ci aprodassi. Ho preso dei profumi da una ragazza che ha chiuso le boristeria e aveva dei profumi erbolari a prezzi stracciatissimi. E poi ho preso la mia prima palette di Natasha Denona. Piuttosto che 75€ l'ho trovata a 30€ perché questa ragazza francese l'aveva a sua volta comprata su Vinted ma poi alla fine aveva capito che non le piaceva e quindi l'ha rivenduta. Quindi da 75 a 30€. Praticamente nuova, almeno dalle fotografie mi sembrava praticamente nuova. La sto aspettando a giorni e ho preso, non mi ricordo più il nome, poi ve la farò vedere, quella sui toni dell'aranciato, marrone, dorato. Bellissima. Insomma, volevo provare un po' le polveri di questo marchio rinomato. Ma 75€ francamente non le avrei mai spiegate. Va bene, giorno 2, giusto? No, ho sbagliato, questo era il giorno 3. Ricacciando. Giorno 2 ho trovato questo arnese che presumo sia per separare le sopracciglia. Ma vi dirò quando proverò ad usarlo. Esatto, lash separator, beauty tool professionale per pettinare e separare le ciglia con precisione. Utilizzare dopo l'applicazione del mascara, mentre la texture è ancora umida, perché se no mi sbrago via anche le ciglia. Vabbè, vi dirò. Proveremo. Poi, giorno 3, questo lo volevo comprare, per fortuna non l'ho comprato. E così lo provo. È un primer, ma è anche tinta ed è anche SPF 20 Skin Perfector. One Step. Questo sono molto curiosa di provarlo. assomiglia forse un po' anche a quello della sua sorella Essence che io ho preso. Mi pare che sia di Essence o è ancora quello di Catrice. Non mi ricordo. Tutto in uno. Idrata, nutre, minimizza le imperfezioni e protegge. Fondo tinta, correttore con vitamina C e filtro solare. Gli innovativi pigmenti si trasformano a contatto con la pelle, garantendo una coprenza invisibile e su misura per un aspetto fresco e sano. Agitare bene. Proveremo. Sono molto curiosa. E questo era un giorno 3. Qua si sente il rumore dello spacchettamento. Buttiamo per terra. Tanto poi devo sistemare. Giorno 4. Un bellissimo smalto. Peccato che io ho le unghie con il semi permanente, ma quando lo toglierò e se lo toglierò, questi li tengo. Bellissimo. Un color lilla malva. Stupendo. Si vede bene? Sì, più o meno. Tanto oggi, anche se abbiamo le luci sparaflashate, non dobbiamo truccarci. Giorno 5. Un illuminante. Catrice. Non vedo niente. Mineral Highlighting Powered. Power. 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 Powder. 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 Molto bello. Uh. Adesso qua facciamo uno swatch. Swatches. Però dove ve lo faccio? Sulla mano. Ecco. È un colore che piace a me. Non troppo evidente. Si vede bene? Più o meno. Va bene. E questo è il colore. bello. Brillante. Non troppo chiaro. Che si fonde bene con il mio colore. Mmm. Che buon profumo. e per il giorno 6 abbiamo trovato un altro smalto. Però vabbè. Questo verde acqua. Meraviglioso. e siamo a posto. Catrice. Buttiamo per terra i pacchetti. Poi abbiamo invece quello di Yves Rocher. Allora. Vediamo un po'. Giorno 1. Maschera mousse. Sì, ciao qua. Neanche a leggerlo. Va bene. Alla camomilla bio. Io non so se poi è scritto anche in italiano. Qui non lo vedo. Allora sulla scatola sicuramente no. Ma qui ragazzi sarebbe impossibile leggere. Quindi credetemi sulla parola. Molto carina. a confezione. Calendario di Yves Rocher. Ha dentro veramente dei bei prodotti. Mi piace tanto. E per il prezzo che ha. Secondo me ne vale anche di più. Giorno 2. Crema per le mani. Al latte. E alla mandorla. Bellissimo il pack di questo azzurro quasi chifani. Meraviglioso. Proveremo tutte queste meraviglie. Devo fare un sacco di video ma in questo periodo il tempo è un po' un casotto. Giorno 3. Doccia... Ricco doccia schiuma per pelle extra secca. Al karité. Wonderful shiga. Eh sì perché io non ne te lo vedo. Ah sì. Ah sì c'è in italiano. Allora. Balsamo doccia. Ok avevo indovinato. Ultranutriente al karité. Per pelli molto secche. Perfetto. Ma sono troppo carini. Perfetto. E voi? Cosa avete trovato nei calendari della 20? Le avete preso? Io quest'anno è la prima volta che ne ho presi tanti. Mi sono proprio scialata. Giorno 4. Pur Halg. Acqua micellare. De Macillant. 2 in 1. Sono pelli normale e miste. Ne sto utilizzando una adesso di Yves Rocher che è favolosa. Buona buona buona. A me i prodotti di Yves Rocher stanno piacendo tantissimo. Sono belle pucciosine piccoline. Poi è bellissima anche la confezione secondo me. Molto carina. Tutta azzurra. Giorno 5. Abbiamo il shampoo riparatore. Penso che sia così. Vediamo se si riesce a leggere. Shampoo crema riparatore. Lo proverò. Ho sentito parlare bene di questa linea di shampoo. Molto carino. E poi comunque sono quanti ml. Vediamo. 50 ml. Sono due shampoo. Ce li riusciamo anche a fare. E oggi ragazzi. Una roba pazzessa. L'ho anche provato. Cioè bellissimo. Ma cosa vi ho detto l'altro giorno? Cioè ma secondo voi? Rosso così. Non c'ho qua neanche lo specchio. Volevo provarlo. Sembra una deficiente. No troppo forte. Mamma mia. In diretta. La Eli che non lo vede. Vabbè. Fortissimo. Io non sono abituata a questi rossetti. Bello. Molto bello. Cioè tipicamente natalizio. È il colore Rouge Elixir Satiné. Colore 12. Mamma mia. Sono un'asciura? Sono un'asciura? Vabbè. C'ho 50 anni. C'ho qua da due. Bello eh. Molto molto bello. Molto morbido. Non sono abituata. Così. Mi avete visto in diretta. Con il rossetto rosso. E poi. Per ultimo. Manum. Per importanza. Il calendario dell'avvento. Che mi piace tantissimo. È il calendario dei profumi di Divine. Che è un'azienda che fa profumi equivalenti. Non vi sto a descrivere note e nient'altro. Perché se no arriviamo a sera. E questo è proprio solo un momento veloce per aprire insieme i vari pacchetti. Se vi interessa me lo dite. Vi faccio un video a parte. E proviamo pian piano tutti i profumi. Vi devo dire che mi stanno piacendo tutti tantissimo. Di questi sei che ho aperto ce ne sono due che sicuramente acquisterò. Perché hanno un'intensità pazzesca. Uno di questi. Che poi vi dirò. Addirittura l'ho spruzzato alla mattina. L'ho sentito fino alla sera. Sulla pelle e sul maglione. E in più siccome ero in camera hobby. Quando l'ho provato. Il giorno dopo sentivo ancora il profumo. Buonissimo. 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 Allora. Innanzitutto. Il calendario è spettacolare. Vi avevo messo le foto sui vari social. E ha questi disegni che sembrano fatti a mano di tutti i fiori. E sono meravigliosi. Il numero uno è il numero 315. Mi sono anche segnata tutto. Se no poi non me lo ricordo più. È il dupe. Io di questi profumi. Che sono dupe di altri profumi. Io gli originali non li conosco. Anche perché presumo abbiano dei prezzi abbastanza esorbitanti. Non conosco nulla. Ma questi profumi. Anche se non sono uguali. Ma non lo saprò mai. Mi piacciono tantissimo. Allora. Il numero 315. È il dupe di Santal 33. Di L'Elabo. L'Elabo. O L'Elabo. È un legnoso aromatico. Sono tutti profumi unisex. Per il momento. E mi piace tantissimo. Buono. 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 Allora. Io li comprerei tutti. Però ce ne sono due. Che sicuramente comprerò. Il giorno 2. Che ha queste bellissime campanelle. Sulla confezione. Il giorno 2. Ha invece. Un vaporizzatore. Da borsetta. E questo. Mi piace. È un regalo interessante. Carino. Che avevo bisogno. E che userò. Nero. Molto elegante. Bello. 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 Proverò ad utilizzarlo. Oggi sono andata a portare due o tre cose alla rinella. Che è dalla sua sorella a Sirone. E si sente già aria di Natale. Si arriva alle 5 e mezza. 6 di sera. Con tutte le luci sulle strade illuminate. Molto piacevole. Anche se. Ecco. Con tutto il costo dell'energia elettrica. Non so. Quanto. Sia. Proprio. Eticamente. Corretto. Però. Va bene. Li pagano i commercianti. Quindi. Avranno fatto i loro calcoli. Comunque. L'eco. Illuminata. È bellissima. Tutte le luci. Si. Riflettono. Sulle acque del lago. Ci sono tutte le illuminazioni. Nel centro. L'eco. C'è un traffico. Micidiale. Però. Insomma. È proprio una bella città. E mi piace guardare la mia città. Con gli occhi. Da turista. E non da. Abitante. Lecchese. Perché. Alcune cose. Secondo me. Le perdiamo. Un po'. Siamo troppo abituati. Alla nostra bellissima. Città. Poi ci sono le montagne. Che sono innevate. E oggi. C'è una luna spettacolare. Il cielo è sereno. Quindi. Arrivando dalla Brianza. Quando non è ancora. Completamente buio. Si vede il resegone. La grigna che sono carichi di neve. Per queste nevicate di questi giorni. C'è la luna che illumina. Ci sono le luci. È uno spettacolo davvero meraviglioso. Se conoscete la città di Lecco. E la conoscete. Per la neve. Per le belle montagne. Se arrivate da Milano. Dalla Brianza. Veramente. È uno spettacolo meraviglioso. Ma veniamo al giorno 2. Al giorno 3. Scusate. E ho trovato il numero 248. Che. Dicono essere il dupe di lime. Basile. Mandarine di giomalone. E questo. È uno di quelli che voglio prendere. Forse ne voglio prendere anche tre. È buonissimo. È un agromato aromatico fresco. Rimane sulla pelle. Tutto il giorno. Perfetto per uomo. Per donna. Meraviglioso. 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 Arriviamo ora. Al giorno 4. Il giorno 4. Ho trovato il profumo. Dei miei sogni. È il 682. Ed è il dupe. Aspettate che me lo sono scritto. Anche come si pronuncia. Di Baccarat Rouge. 5 e 40. Di Maison Francis Courjan. Sono andata a sentire dei video. E dicono che si dice così. Ecco. Io questo profumo. Lo amo. E questo me lo spruzzo. Non lo vorrei consumare. Ma tanto poi questo lo compro. Lo compro. Mamma mia. Quanto mi piace. Io non so. Se l'altro profumo è così. Sicuramente sì. Perché c'è scritto nelle recensioni. Che le assomiglia molto. È un profumo che dura tutto il giorno. Rimane negli ambienti. Rimane sui vestiti. Favoloso. Buonissimo. Buonissimo. È un orientale fiorito. E con la mandorla amara. Lo zafferano. Il cedro. L'ambra. Favoloso. Buonissimo. Se qualcuno di voi ha l'originale. Mi dica che non costa troppo. Mi dica che non costa troppo. Che lo vado a prendere. No. Però se già questo è buono così. Fa niente. L'originale non lo proverò mai. Poi. Veniamo al giorno 5. Il giorno 5. Ho trovato il numero 303. che è Virgin. Il dupe di Virgin. Island. 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 Si. Water di Creed. O Cread. Come più piace a voi. è un agrumato. E questo è un altro di quelli che voglio prendere. È un agrumato. Con note di cocco, limone, zenzero. Il cocco secondo me si sente un sacco. Ho detto che non li spruzzavo. Invece li ho spruzzati. Ma sapete che questo rossetto rosso non mi dispiace. Mi devo abituare. Cocco. Cocco, limone. Mmm. Zenzero. Si sentono tutte queste cose. Ce ne sono anche altre di note. Ma mi sono scritte quelle che io sentivo. E anche questo da comprare. Ho capito che comprerò tutto. Buono, buono, buono. E guardate che carina la farfallina. Ma il 4 ve l'ho fatto vedere. Sì, sì. Elena si sciocca. E per ultimo il giorno 6. Il giorno 6. Dove ho trovato, e anche questo, allora, sicuramente quelli che comprerò saranno il 682 e questo che è il 560. che è un tripudio fiorito, anche se qua lo descrive come una fragranza agrumata e aromatica, ma io di agrumato ci sento ben poco. Ci sento tutto quello che questi fiori, che questi agrumi hanno nel fiore. Quindi il gelsomino, il neroli, la lavanda, il fiore d'arancia amara, il bergamotto, il limone. Ci sento queste note, ma sento le note dei fiori e non dell'agrume. E' una roba spettacolare ed è il dupe di neroli portofino di Tom Ford. Mamma mia, è intensissimo, buonissimo. Bene ragassuoli e ragassuole. Abbiamo passato un pochettino di tempo insieme, intanto la Eli cerca di scassare la, ovviamente, lasciamola lì. La scatola, adesso, stasera, giornata, ciofecacce. E quindi abbiamo preso le pizze surgelate, perché siamo stati in giro io e la Lucy a fare un po' di compre. Abbiamo preso le pizze surgelate, ci facciamo un bel aperitivo con il salamino e le patatine del sacchetto. Ci beviamo una bella birra e finiamo la serata in allegria. Io vi saluto, vi aspetto nel fine settimana con un video sorpresa con un'amica. E andrò venerdì con la mia amica Lella a Milano. E vi racconterò poi quello che succederà venerdì. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro una buona serata. Spero che cominciate anche voi a sentire nell'aria il profumo del Natale con il freddo più pungente, con le luci delle città, con il profumo della legna e dei camini. Questo è proprio il profumo del Natale. Ricordiamoci sempre però che noi siamo fortunati perché possiamo fare tante cose. Abbiamo delle belle case riscaldate. C'è anche chi questo Natale purtroppo lo passerà ancora al freddo e sotto le bombe della guerra. E se non le bombe, qualcos'altro. Ma sicuramente non sarà un Natale felice per tante persone. Non solo quelle che sono in guerra, quelle anche nei paesi del terzo mondo. Perché sembra sempre che quando succeda qualcosa di brutto si dimentichi quello che già di brutto c'è. Ecco, noi siamo fortunati. Abbiamo delle belle vite, abbiamo un lavoro, abbiamo tutto quello che c'è necessario e anche di più per mangiare e vivere al caldo. C'è gente invece che purtroppo tutte queste cose non ce le ha. E quindi secondo me fa bene gioire del Natale, ma dobbiamo anche ricordarci di queste cose. Vi ho fatto un finale filosofico e morale, però io insomma queste cose le sento. Mi piace sempre ricordare chi invece non sta bene come sto io e come stiamo noi. Quindi ragazzi, godiamoci quello che abbiamo. Ringraziamo sempre perché siamo fortunati. Io vi abbraccio e questa volta vi dico veramente che vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Un bacione con le mie labbra super colorate e natalizie e a presto. Ciao!